A Pescara questa mattina la CGL ha tenuto un presidio dimostrativo dinanzi all'ospedale civile per contestare in particolare la parziale esternalizzazione del pronto soccorso. Le altre tematiche al centro del sit-in, a cui hanno partecipato anche esponenti di forze politiche e associazioni, riguardano l'universalità del diritto alla salute, la riduzione dei tempi delle liste di attese, il rafforzamento e l'integrazione della rete sanitaria territoriale, l'efficientamento e l'informatizzazione dei servizi sanitari e la valorizzazione e stabilizzazione del lavoro. La CGL ritiene inderogabile un cambio di rotta radicale sulla gestione della sanità affinché il territorio possa raggiungere quei livelli di qualità e anche di eccellenza, non solo per prendersi cura adeguatamente delle persone, in particolare di chi più ha bisogno, ma anche per valorizzare le strutture, i servizi sul territorio e tutto il personale impegnato nelle cure delle persone.